E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale che seguiamo l'Italia, seguiamo gli europei, anche domani le parte, mi raccomando guardate i video fatti in precedenza, quello di quest'oggi sulla prossima serie A, i video sulla Fiorentina, i cattomercati, i video sul calciomercato, guardate e recuperatevi tutto, seguitemi sui social, mi raccomando Instagram e Twitter e commentiamo questo Belgio-Italia con l'Italia che vince contro il Belgio 2-1 e accede alle semifinali di Euro 2020. Allora è stata un'Italia veramente ottima secondo me nel primo tempo e anche in parte del secondo, ho visto una squadra che non ha sofferto un Belgio abbastanza stanco barra rinunciatario soprattutto anche a livello tattico, è sceso in campo con un mood troppo conservativo, ho capito, sfruttare le ripartenze, però ha consegnato praticamente la partita in mano ad un'Italia che ha ringraziato e ha fatto un'ottima partita soprattutto in fase di possesso, dominando il possesso palla, facendo anche del bel possesso, delle belle triangolazioni, delle belle giocate, dei bei schemi diciamo ha un po' sofferto sulla fascia destra perché questo Doku o Doku che dir si voglia è veramente un giocatore fenomenale che penso che con questo europeo si sia valorizzato in due partite alla grandissima e giustamente perché è veramente un giocatore interessante, però anche nell'Italia ho visto tanti giocatori che hanno fatto una partita importante, mi è piaciuto moltissimo devo dire Chiellini ma è quello che si era un po' detto con la partita con l'Austria e quando fu convocato, nel senso è l'unico leader bene o male che l'Italia ha, è l'unico giocatore di carisma non per niente capitano ma non solo per una questione di anzianità, è un giocatore che porta esperienza in campo, è un giocatore forte ancora alla sua età, è un giocatore che in questa Italia fa veramente bene in questo tipo di contest, mi è piaciuto anche Bonucci, devo dire che è un altro che quando gioca a Chiellini ne guadagna molto a centrocampo mi è piaciuto, diciamo che Barella e Giorginio si sono invertiti le partite, nel senso che Barella ha fatto molto bene con quel gol fantastico nel primo tempo poi è un po' calato, Giorginio è partito un po' in sordina e poi lo si è sentito durante la partita Verratti ha fatto una discreta partita, diciamo una buona partita però anche lui non è che abbia brillato, i protagonisti sono stati altri vi ripeto mi è piaciuto molto Barella per il gol, mi è anche piaciuto molto Insigne devo dire, al di là del tiro a giro, al di là del gol bellissimo che ha fatto, ma poi è un giocatore che si è visto che a livello tecnico era in confidenza, era entrato in confidenza ha fatto molto bene, devo dire che non mi è piaciuta molto, al di là del modo con cui hai preparato la partita che è stato ottimo, non mi è piaciuto molto nel finale quando anche complice l'infortunio di Spinazzola a cui faccio i miei migliori auguri di pronto rientro, anche se purtroppo temo che sia un problema come è stato detto abbastanza serio e del resto è uno è anche forte come giocatore senz'altro, però ha questa sfortuna ciclica in carriera che lo riguarda adesso avremo Emerson Palmieri e dicevo, complice un po' l'infortunio di Spinazzola che ha mescolato le carte complice anche il fatto che probabilmente hai preso un po' paura, dovevi difenderti però negli ultimi, nella seconda parte di partita ho visto un'Italia che si è schiacciato un po' troppo in difesa ti sei abbassato un po' troppo con il 4-5-1 con questo modo di giocare abbastanza rinunciatario, ecco e hai un po' rischiato sebbene il Belgio poi fosse veramente in una serata abbastanza negativa ho visto un Belgio che a parte delle buone dinamiche difensive ha messo in campo poco e nulla vi ripeto, ha fatto più Doku che De Bruyne Lukaku, mi dispiace, ma si conferma ancora una volta un giocatore che quando, vi ripeto, il livello si alza c'è sempre un modo di vederlo far fatica contro difensori di livello partite di livello avversari di livello quando si alza la precisione e la richiesta Lukaku è sempre da valutare e anche questa sera è arrivata perché per carità come rigorista niente da dire rigorista impeccabile rigorista di eccellenza però per il resto ha fatto una partita da assente discreto Witzel ma per il resto un Belgio anche i tre difensori ma per il resto un Belgio molto assente ok che mancava Hazard per carità però a parte quello un Belgio troppo rinunciatario troppo schiacciato troppo passivo l'Italia invece ha fatto di meglio avendo a disposizione questo tipo di possesso questo tipo di fortuna e ha fatto molto bene quando ha avuto il possesso specialmente nel primo tempo un'altra cosa che si è notata è il discorso di Immobile ho sentito anche che Mancini si è incazzato diciamolo anche tolto per Belotti ma che poi non è cambiato granché perché siamo sempre da quel punto di vista lì nel senso sono due attaccanti che per questo tipo di schema che tu fai non va bene tu Immobile lo vedi che non sa girarsi non ha i movimenti di questo tipo di punta però c'è da dire insomma che l'Italia organizzata così sebbene abbia dei vulnus sulla fascia sebbene abbia questi attaccanti che non sono andati a questo modulo però c'è da dire che gli esterni giocano bene perché anche Chiesa ha fatto un'ottima partita il centrocampo bene o male fa un ottimo gioco la difesa centrale c'è ci sono anche dei bei giocatori per carità però c'è da dire insomma che oggi ho visto oggi ho visto una buona Italia che ha anche dimostrato secondo me di giocarsela alla pari con un Belgio anzi anche meglio che alla pari di giocarsela alla pari sul campo e di meritare attraverso la prestazione anche di andare avanti insomma con una squadra forte come il Belgio sebbene stasera vi ripeto non è che mi abbia entusiasmato non è che abbia visto un Belgio brillante anzi Belgio è un'altra squadra che probabilmente se faceva fin dall'inizio un altro schema e non questo 3-4-3 che adesso tutte le nazionali vogliono fare l'Italia nel difetto diciamo del fare uno schema che non è che valorizzi propriamente tutti però quantomeno è stato bravo Mancini a portare all'europeo uno schema che su cui lavora da tempo e non fare come nazionali che vanno avanti a provare sti schemi anche in base all'avversario non è il caso del Belgio però il Belgio ha proprio uno schema che secondo me non era dato quando ha arretrato De Bruyne si è vista una squadra anche un po' più un po' più propositiva un po' più coraggiosa un po' più forte l'Italia mi è piaciuta molto il primo tempo nel secondo tempo a correnti alterne ha dimostrato comunque anche di saper difendere di saper soffrire e di essere una squadra che può affrontare assolutamente anche avversari importanti se è in serata se è in calibro e se è attenta e concentrata adesso ci sarà la Spagna in semifinale sarà una bella semifinale vedremo come andrà sarà paradossalmente è una partita in cui hai un avversario più debole del Belgio però attenzione perché anche sottovalutare diciamo sottovalutare gli avversari non va mai bene e oltretutto mancherà Spinazzola che comunque è un giocatore importante questo sicuramente si ha un po' forse ceduto anche lui nell'azione perché era fomentato in queste partite si vedeva caspita spiace anche per quello era fomentato e ha probabilmente gettato il cuore oltre l'ostacolo anche fisicamente ed è successo questo comunque vado con le pagelle Donnarumma mi è piaciuto stasera specie nel primo tempo anche lui 6 e mezzo Di Lorenzo ha un po' sofferto ma poi è emerso gli do gli do 6 Bonucci 6 e mezzo Chiellini 7 assolutamente partita maiuscola Spinazzola non aveva fatto una grandissima partita stava anche lui emergendo gli diamo 6 e mezzo con augurio con augurio di guarigione Barella 6 e mezzo solo per il gol 6 e mezzo solo per il gol Giorginio gli diamo 6 sarebbe un dal 6 più al 6 e mezzo ma non esiste quindi gli diamo 6 più giustamente Barella gli diamo un pelo di più Verratti gli diamo 6 più anche a lui Chiesa 6 e mezzo mi è piaciuto Immobile dal 5 al 6 ma vi ripeto non è colpa sua ancora una volta dal 5 al 6 diamogli Insigne 6 e mezzo anche lui Belotti 6 sarebbe un senza voto Berardi 6 anche a lui Emerson Palmieri 6 Cristante 6 Toloi senza voto al Belgio allora Courtois voto a Courtois 6 meno Alderweire 6 Vermeulen 6 più Vertonghen 6 più Meunier 5 e mezzo Tillemans dal 5 al 6 Witzel 6 Hazard voto dal 5 al 6 De Bruyne 6 meno Doku gli diamo 6 più Lukaku 5 e mezzo Mertens voto 5 e mezzo Pride 5 e mezzo voto agli allenatori Martinez 5 e mezzo voto a Mancini 6 e mezzo perché comunque hai battuto una squadra forte hai battuto un Belgio maturo un Belgio che tutti aspettavano sulla breccia una squadra di livello avrei non mi sarei chiuso così tanto a fine partita però va bene così voglio dire il risultato l'hai portato ditemi cosa ne pensate iscrivetevi un caro saluto e a domani con le altre partite